bel colpo veicolo nemico distrutto l'abbiamo preso bel colpo l'abbiamo preso bel colpo l'abbiamo preso l'abbiamo preso l'abbiamo preso l'abbiamo preso l'abbiamo preso torna indietro da lì l'abbiamo preso forzato nemico danneggiato abbiamo danneggiati bel colpo Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 E' rimbalzato! Ce ne sono grato! Yes, sir! Abbiamo un cingolo danneggiato! Abbiamo un cingolo! E' stata richiesta la tua assistenza! Plotone creato! Un giocatore si è unito al Plotone! Un giocatore si è un giocatore! Veicolo nemico distrutto! Cingolo sistemato! Andiamo! Corazzato nemico danneggiato! Centrato! Preso! Pronti al fuoco! Abbiamo un cingolo danneggiato! Cambio obiettivo! Bel colpo! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! Li abbiamo incegnati! Peccato! Beauty! Per, Ost Mira! Ero! Pogalata! Chi 2! Chi comandecatio! Chi chi? Grazie a tutti. Grazie a tutti.